. Francesco Monte ha tradito Cecilia e Teresanna? Parla Angela Achilli Wind Zuiden. Cecilia Rodriguez e Teresanna tradite da Francesco Monte? La smentita di Angela Achilli. Nonostante la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sia finita da mesi, pare continuino a far molto parlare sui social. E nella giornata di ieri Francesco è finito nellocchio del ciclone per via di alcune clamorose rivelazioni fatte da Angela Achilli. Rivelazioni poi smentite seccamente proprio da questultima, la quale sul suo profilo Instagram ha scritto quanto segue. . Dopo aver passato una giornata a leggere post, articoli e mie interviste non veritiere, sono qui a chiedere scusa ufficialmente al mio amico Francesco Monte e a smentire quanto detto. . Ma cosa è successo ieri? La giovane, ospite da Turchese Baracchi, ha dichiarato che il giovane avrebbe mancato di rispetto alle sue due ex fidanzate Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese. . Il motivo? La giovane ha rivelato di essere stata corteggiata in passato dall'ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, asserendo che fosse felicemente fidanzato. Parole, che ovviamente hanno creato un vero e proprio caos. . E a distanza di 24 ore ecco arrivare la secca smentita. Che la ragazza sia stata semplicemente fraintesa. Francesco Monte è stato infedele con Cecilia e Teresanna? Angela Achilli smentisce tutto. Francesco Monte ha tradito Cecilia Rodriguez e Teresanna? A quanto pare no. Infatti, Angela, nelle ultime ore, ha smentito categoricamente quanto asserito nemmeno 24 ore fa a ospite del programma web di Turchese Baracchi. . . Angela sarà qui ospite da me per una nuova diretta e spiegherà bene la sua posizione e dice prima delle cose e poi le smentisce e tutto questo ha creato un problema a Monte, il quale ha smentito ogni parola dichiarata ieri da Angela Achilli e… . Verrà mai fuori la verità? Ci potrebbe essere presto un confronto tra Angela Achilli e il giovane Francesco Monte? Chissà, intanto, cambiando argomento, Francesco pare essere stato selezionato come concorrente VIP nella prossima edizione del reality show VIP condotto da Alessia Marcuzzi. . A rivelare lo scoop è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su Twitter e Instagram. . E insieme allex fidanzato della sorella di Belen e Jeremias Rodriguez dovrebbero esserci anche la ex attrice di film per adulti Eva Henger, la ereditiera Elettra Lamborghini, il figlio darte Marco Ferrari, la sobrette Francesca Cipriani, la cantante Bianca Atzei, e tanti altri. . Chi di loro riuscirà a vincere?. .